Previsioni meteo per mercoledì 23 gennaio al nord un nuovo graduale peggioramento con rovescia a partire dalle regioni occidentali in estensione nel corso della giornata al centro e al sud nobuloso con piovaschi diffusi a carattere intermittente. Venti dai quadranti occidentali deboli al nord, mari da mossi a molto mossi, temperature senza variazioni di rilievo.